Dopo la chiusura del primo ciclo del cashback di Stato e della prima estrazione mensile della lotteria degli scontrini, è tornato forte l'appello di Confartigianato Imprese e Vicenza per destinare le ingenti risorse dedicate a tali iniziative temporanee ad una più radicale e stabile riforma del fisco. Questo tipo di iniziative, sottolinea il presidente di Confartigianato Vicenza Gianluca Cavion non rispondono alle reali esigenze del tessuto imprenditoriale artigiano, ossia di coloro che hanno concretamente pagato a caro prezzo il lockdown. In quest'ottica, a seguito dei lavori delle commissioni finanze di Camera e Senato impegnate sulla riforma del sistema fiscale, Confartigianato Vicenza ha dato vita ad un tavolo di lavoro per avanzare delle proposte concrete e a misura di piccola impresa. Ai lavori hanno preso parte anche il direttore delle politiche fiscali di Confartigianato Imprese, Andrea Trevisani e i professori di diritto tributario Andrea Giovanardi e Dario Stevanato. Sentiamo. È scandaloso che quasi 5 miliardi vengano destinati a lotterie e cashback. Oggi è così e sembrano propri soldi buttati via. Oggi le priorità dovrebbero essere le imprese e il lavoro, soprattutto quel tessuto che riguarda tutta l'area del turismo che ha sofferto tantissimo nella seconda metà dell'anno 2020. Questi fondi potrebbero essere destinati a trovare nuovi ristori e ad abbassare le imposte con una riforma fiscale che abbia come obiettivo questo, come annunciato dal Premier Draghi alle Camere. È proprio per questo che a Vicenza abbiamo creato un tavolo di lavoro con i vari livelli, Confartigianato Nazionale, Confartigianato Veneto e Confartigianato Vicenza per cercare di fare delle proposte congrue al governo perché possa ascoltare le imprese che sono l'anima vitale di questo territorio. Cerchiamo di non disperdere queste risorse perché se investite bene potrebbero creare un effetto leva per far ripartire l'economia da tutto il nostro Paese.